buongiorno come ti chiami carlo ciao carlo io sono andrea da mercicque cosa da mercicque che facciamo stamattina se dà una scossa adrenalina mi piace questa cosa allora due cose ti chiedo io guardami e sorridimi specialmente in caduta libera così facciamo delle belle foto e un bel video ok e buon divertimento ci vediamo dopo in aereo ale aereo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.